il mondo dei sonni puoi desiderare quello che vuoi qui a slumberland potrei rivedere mio padre attraversiamo questa porta e cambia tutto ok cosa stiamo aspettando questo è lo spirito la regina dei draghi verrà a katolis e porterà il team non sarà più lo stesso per via di reyla la amia ancora non è vero ti trovo in forma calmo vieni a prendermi campione giochiamo a calcio in strada ci siamo messi in affari per comprare quei biglietti e sta funzionando e tutto questo ce lo ha ispirato tu zlatan impressionato chiamaci gli acchiappa creature dove hai preso quella sciarpa è così morbida non è realmente una sciarpa morbida vero george guarda chi c'è e allora ci succederebbero ugualmente ma lascia dammelo vediammelo libro via ci siamo reggiti forte affascinante la roccia sembra attirare i pulmini voglio darvi un caloroso benvenuto ecco a voi sono arrivato troppo presto maledetto nano ecco a voi abone